Mi guarda, mi vivo più forte, ok? Ho più una spinta proprio muscolare, perché se no ti viene meglio qua nel video di lui. Prova. No, non mi scordo, ok? Adesso torni e cerca di non perdere la vibrazione. Quando torriendo il labbro ti tende e a volte all'inizio si perde la vibrazione. Per mantenere la vibrazione devi dare un po' di spinta proprio addominale, muscolare, che ti aiuta a... Non finire l'aria, non finire la vibrazione. Bene il suono, trova il suono ancora. Piano piano, piano piano sorridi, mantieni il suono. Non fai un po' troppo veloce il movimento che perdi la vibrazione, cerca di curarlo un po' di più. Piano piano sorridi, bravo, ok? Quando perdi il suono riprendila e così pian piano vedrai che ti viene.